scusate se vi ho dato il buongiorno solo adesso e molti di voi mi hanno chiesto se fossi morta invece no come le uova di pasqua noi non molliamo ci siamo non si vedono ma ci sono sto combattendo con le valigie ho quasi messo a posto tutte le valigie mi mancano due valigie mie che sono vuole piuttosto perché è facile mettere a posto le cose se hai lo spazio invece quando devi giocare a tetris dentro gli armadi ed essere anche ordinato perché io sono ordinatissima e va tutto incastro potrebbe buttare tutto da sotto però intanto ho messo a posto tutti i miei prodotti poi io sono tipo malata perché metto tipo tutte scatole in ordine di marca prodotto qua c'è tutta la roba di wonder comp e adesso ragazzi che si riparte mi raccomando utilizzate la protezione io per esempio uso questa che è un super abbronzante alla birra però alla protezione 30 che buono ragazzi io vado a questo supermercato solo per comprare questa spica alla curcuma che indiana c'è sa poco di indiani l'indiano sa già come sa che sa l'indiano l'indiano